Qual è l'Italia che immagina? Un'Italia consapevole, ma sarò retorica, userò la retorica, perché l'Italia non è consapevole di essere il paese più prezioso del mondo, è un paese meraviglioso. Io che giro il mondo ho sempre una conferma che tra le grandi città e i borghi l'Italia è un paese straordinario. Noi abbiamo avuto una fortuna pazzesca a nascere in questo paese, quindi io sono contro quelli che disprezzano, che dicono, che parlano dei nostri difetti. Io immagino un paese che finalmente si rende conto che questo paese, per la sua preziosità, va conservato e va amministrato con grandissima attenzione. Questo paese nel 2050, secondo me, in questo paese per entrare in Italia si pagherà il biglietto, perché non è giusto che la gente venga a vedere la mole antonelliana di Torino, che è il paese originario di Piero Ghiambretti, quindi ha generato tanti, eccetera, eccetera, e viene a vedere, capito, il maschio Angiorino, oppure l'uomo di Milano, ha gratis, come si dice a Roma, deve pagare il biglietto. Questo potrebbe anche risolvere i problemi economici del nostro paese, perché poi se vuole che, siccome mi piace far vedere il mio amico Ghiambretti, che sono colto, potrei usare un termine che si chiama discrasia, lui non sa bene che significa, però la discrasia significa la differenza che c'è tra il paese reale, quello del gusto, della creatività, della cultura, della bellezza, dei monumenti, di tutto il genere, e invece il paese socio-politico, così come è ridotto in questi anni, che è un paese che, oltretutto, ha perso anche la sua capacità di essere il paese turistico più visitato al mondo, era al primo posto, adesso siamo, credo, al dodicesimo, se non... e quindi questo è il grande problema. Mi faccia qualche altra domanda. Che differenza c'è tra la televisione di Guglielmi e quella di adesso? Beh, la televisione di Guglielmi era rivoluzionaria, adesso di rivoluzionario non mi pare che ci sia granché, è una televisione appiattita sull'auditel, non si fa, la televisione di Guglielmi era fatta per fare delle belle cose, si ragionava su questo, io non credo di aver mai sentito quelli che facevano allora cose sperimentali, come quelle di Rai 3, che dicevano ma qui l'auditel adesso aumentiamo, facciamo... Ecco, adesso anche Rai 3 non prescinde dall'ascolto, dalla cosa, dall'indulgenza verso il pubblico, eccetera, anche se, insomma, si respira sempre un'aria diversa rispetto alla televisione imperante. Però, insomma, i prototipi più interessanti sono partiti con Angelo Guglielmi e la sua televisione d'autore, televisione che lui definì così, anche riferendosi a me, che però non facevo parte della sua parrocchia, in senso buono.